Taci Ciao a tutti ragazzi e ben trovati in quest'ultimo appuntamento con la pioggia nel pineto Ora che abbiamo tutti gli strumenti necessari all'interno della nostra cassetta degli attrezzi per agire sulla poesia possiamo finalmente leggerla, farne la prafrasi e coglierne quantomeno gli aspetti minimi fondamentali Praticamente D'Annunzio ci mette davanti a un vero e proprio processo di metamorfosi Lasciate che mi spieghi meglio All'interno di un contesto rarefatto ed indefinito viene messo in atto un vero e proprio rito dionisiaco o panico in cui la pioggia funge da accensione e lo stesso linguaggio si trasforma nel rito orfico del poeta attraverso il quale i protagonisti riescono a congiungersi con la natura che li circonda La parola poetica ha quindi una importanza fondamentale in questa poesia Come fosse un mantra, attraverso una variazione infinita sul tema fatto di riverberi e suggestioni sonore è possibile tutto ciò che viene detto nella poesia stessa Ma ricordatevi che l'unico vero protagonista assoluto di questa poesia è il poeta stesso e che questo poeta è D'Annunzio Non perdiamoci però in chiacchiere e iniziamo subito con la lettura della poesia Io non mi metterò a declamare la poesia perché mi manca proprio la qualità vocale Vi lascerò comunque qui sotto in descrizione un video in cui qualcuno con una voce molto migliore della mia ha dato il giusto merito anche alle qualità fonetiche di quest'opera Ma iniziamo subito e quindi... Taci Ecco, mi devo fermare subito Questo, secondo me, è uno degli incipit più belli della letteratura italiana ma anche uno dei più divertenti Immaginatevi solamente la scena Ci sono Eleonora e Gabriele che ce la stanno passeggiando bellamente senza un pensiero per la testa molto probabilmente quando ad un tratto sono colti dal più classico degli acquazzoni estivi Io mi sono sempre immaginato la povera Eleonora che inizia a imprecare contro il destino cinico e baro a correre per la pineta per ripararsi dalla pioggia e poi salta fuori D'Annunzio fiero che la blocche le fa Taci Allora, per prima cosa Gabriele devi stare molto calmo e secondariamente ma non lo vedi che ci sta crollando il cielo addosso che c'hai da dire proprio adesso e Gabriele che inizia a sproloquiare la sua tiritera non oso immaginare la faccia della duse Comunque, a parte gli scherzi questo Taci ci dà subito una informazione importante Da qui in avanti non c'è spazio se non per la voce del poeta Solamente lui è in grado di cogliere i recessi più segreti della natura e solamente la sua poesia è in grado di restituirceli Quindi, tanto Eleonora quanto noi lettori dobbiamo fare silenzio e ascoltare Infatti, la poesia prosegue Alle soglie del bosco non sento Sottinteso, io poeta le parole che dici che appartengono al mondo umano ma sento un linguaggio più fresco che si esprime attraverso il rumore della pioggia sulle foglie In questo primo periodo si può sottolineare una costruzione sintattica molto particolare che l'annunzio utilizza per accentuare il senso di straniamento del lettore Sto parlando dell'uso nei versi 5 e 6 di una figura retorica chiamata in gergo figura etimologica parole più nuove che parlano gocciole foglie In pratica, utilizza un verbo parlare in questo caso solitamente impiegato in modo intransitivo in modo transitivo Una cosa possibile con questo tipo di verbi accostandoli a termini con la stessa radice etimologica Un esempio è vivere la vita La strofa prosegue con un altro imperativo ascolta che insieme al tace iniziale invita non solamente al silenzio ma anche all'ascolto La pioggia cade dalle nuvole sparse Da qui in poi inizia un unico lungo periodo che chiude la prima strofa Anche un periodo come questo serve a destabilizzare il lettore Ci si perde a leggerlo tutto d'un fiato ed è quello che vuole d'annunzio che noi ci si lasci trascinare dal flusso delle parole Piove sulle tamerici che sanno di mare e sono bruciate dal vento Piove sui pini dalla corteccia scaglie e le foglie aghi forni Piove sui mirti divini Sulle ginestre risplendenti di fiori aggruppi Sui ginepri folti di frutti profumati Piove sui nostri volti da abitanti dei boschi Piove sulle nostre mani nude Sui nostri vestiti leggeri Sui pensieri similmente freschi Che scaturiscono dall'anima rinnovata Sull'illusione dell'amore che ieri ti illuse Che oggi mi illude o armione Questo periodo è sostanzialmente diviso in due parti Nella prima vediamo la descrizione di fiori e piante Ma non sono scelte a caso Le tamerici hanno una lunga tradizione letteraria Arbusta iuvant umilisque mirice Dice Virgilio Dove mirice è il nome latino delle tamerici E Pascoli intitolerà la più famosa Delle sue raccolte poetiche con lo stesso nome I mirti poi nella mitologia greca Erano arbusti considerati sacri a venere Ma anche alla poesia amorosa e all'amore stesso Le ginestre, per chi conosce anche solo un poco leopardi Non hanno bisogno di spiegazioni E i ginepri sono folti di coccole aulenti Un modo ricercatissimo per dire bacche profumate Tutta questa parte è frutto di una composizione raffinata e colta Che strizza l'occhio agli intellettuali Agli introdotti della letteratura Si può anche aggiungere che è proprio guardando a questi versi Che Montale comporrà polemicamente L'incipit della sua poesia I limoni Contro i poeti laureati A partire dal verso 20 L'attenzione si sposta invece sui due personaggi Ma i volti si fanno silvani Si trasformano sotto la pioggia e attraverso la poesia L'anima si schiude come fosse un fiore a se stessa Sui pensieri freschi della coppia Il processo di metamorfosi inizia E come vedremo sarà sviluppato nel proseguo Sul finale della prima strofa non c'è molto da dire Si conclude con un ripiegamento intimistico Se vogliamo proprio fare quelli precisi Si può dire che la favola bella del verso 29 Per riferirsi all'innamoramento È una citazione dotta di Petrarca Più precisamente Canzoniere 254 In cui si parla di una favola breve Con lo stesso significato La scelta anche qui non è casuale Molte volte ad annunzio viene mossa l'accusa di plagio Cioè di aver copiato da altri per le proprie opere E in alcuni punti è anche vero per dirla tutta Ma non tutti sanno che anche a Petrarca fu mossa questa accusa Ed egli per discolparsene si inventò il cosiddetto processo di mellificazione In pratica il poetà retino Divise gli artisti in due grandi categorie Quelli che come i ragni la tela Producono loro stessi il materiale della propria arte E chi come le api È costretto ad andare di fiore in fiore Per cogliere il nettere da cui ricavare il proprio miele Anche qui non è un caso secondo me Se d'annunzio utilizza proprio una citazione di Petrarca L'ultimo mistero da svelare della prima strofa Riguarda questa Ermione verso cui il poeta si rivolge Ma non era Eleonora Duse Sì Ma d'annunzio per opportunità e raffinatezza Decide di rinominarla in Ermione No Non c'entra nulla a Harry Potter Ma la mitologia greca Ermione infatti Secondo il mito Era la figlia di Elena e Menelao Proprio quell'Elena e Menelao di cui si parla nell'Eliade In questo modo Oltre a non militare la Duse con un nome del mito D'annunzio evita inutili grattacapi Dato che lui era sposato all'epoca Ed Eleonora era l'amante Per cui uno pseudonimo era necessario Passiamo ora alla seconda strofa Odi Anzi Meglio dire Senti Ed è la terza volta che D'annunzio torna a richiamarci La pioggia cade sulla solitaria vegetazione Con un crepitio che persiste varia nell'aria In base all'intensità della vegetazione Qui tutto ruota sulla sensibilità accesa Quasi ipertrofica del poeta Che presta attenzione ad ogni minima variazione Ascolta E siamo a quattro avvisi Il frenire dell'ecicale risponde al suono della pioggia Poiché non le spaventa il vento australe nel cielo nuvoloso Piccola nota Ho usato frenire perché è il verbo con cui si indica il suono caratteristico emesso dall'ecicale Ma che può essere utilizzato anche per uccelli e bambini Comunque da qui in poi la metamorfosi è totale Non sono solamente i protagonisti ad avvicinarsi al mondo della natura Ma anche la stessa natura ad antropomorfizzarsi E' in un certo senso il linguaggio a rendersi congiuntivo Cioè a rendersi capace di congiungere la pluralità dei sensi e del reale E' qui che si denota come si stia assistendo ad un vero e proprio rito dionisiaco Che rompe le associazioni tradizionali e ne crea di nuove Il pino emette un suono, il mirto un altro e il ginepro un altro ancora Strumenti diversi suonati dalle innumerevoli dita della pioggia E noi siamo immersi nello spirito che anima il bosco Vivendo la stessa vita degli alberi E il tuo viso inebriato di sensazioni come una foglia è ammorbidito dalla pioggia E i tuoi capelli profumano come le splendenti ginestre Auliscono come i ginefri della prima strofa O creatura terrestre che ha in nome Ermione E questa Ermione, notate, non possiede nemmeno più connotati umani Ma diventa nella visione del poeta una creatura terrestre Arriviamo alla terza strofa Ascolta, ascolta Ed è il quinto richiamo Il suono delle cicale si fa poco a poco più debole sotto il pianto della pioggia che cresce Ma un canto vi si mescola più roco che sale da laggiù Dei recessi più lontani e umidi del bosco Anche qui possiamo notare il carattere rituale, quasi liturgico, che pervade la poesia Con il canto delle cicale e di un altro animale di cui scopriremo il nome solamente al verso 92 A fare da vero e proprio coro del rito in atto Un'altra cosa da sottolineare è l'ambientazione sempre più rarefatta e indistinta Il canto più roco sale da laggiù Dall'umida ombra remota Ma non c'è dato sapere dove Anzi, più avanti il poeta se lo chiede esplicitamente Chissà dove Ma intanto Il canto più flebile e più fioco Si indebolisce, si spegne Una sola nota ancora trema, si spegne Risorge, trema, si spegne Non si sente alcun suono provenire dal mare Ora si sente scrosciare su tutta la pineta L'argente a pioggia che purifica Si sente, sottienteso Lo scroscio che varia a seconda della fronda Più o meno folta In un certo senso qua Tornano gli strumenti diversi sotto i numerevoli dita della strofa prima Ascolta Sesto avviso La cicala, chiamata qui figlia dell'aria, è muta Ma la lontana figlia del fango, la rana Finalmente sappiamo che emette questo nuovo suono Canta nell'oscurità più profonda Chissà dove, chissà dove E piove sulle tue ciglia, o ermione E si finisce con la quarta e ultima strofa Che inizia là dove si interrompe la terza Piove sulle tue ciglia nere Così che pare tu pianga, ma di piacere Sembra tu erompa dalla corteccia di una pianta Con una carnagione non bianca ma quasi verdeggiante Vedete, ermione ormai è più simile alle ninfe del mito che una persona concreta Il processo di metamorfosi può dirsi completo E tutta la vita è in noi frescamente profumata Ancora torna l'aggettivo ulente delle strofe precedenti Prima il ginepro Poi le chiome E ora infine l'intera esistenza dei protagonisti E tutta la vita è in noi frescamente profumata, diciamo Nel petto il cuore è come una pesca non ancora colta Tra le palpebre gli occhi assomigliano a pozze d'acqua sorgiva tra l'erba I denti negli alveoli sono come mandorle acerbe Vedete, ormai non c'è più distinzione tra umano ed elemento naturale Ma notate come tutta l'attenzione generata dalla poesia si scarichi ora nell'erotismo E noi procediamo da un intrico e l'altro del bosco Ora avvinghiati, ora disciolti E le sterpi Quelle che D'Annunzio chiama magistralmente verde vigor rude Ci si avvinghiano alle caviglie e ci si intrecciano alle ginocchia Chissà dove, chissà dove Qui c'è da notare la precisione terminologica di D'Annunzio I malleoli per dire caviglie E' un termine che a nessuno verrebbe mai di mettere in una poesia Soprattutto in una poesia come questa E infine la conclusione Che riprende quasi letteralmente il finale della prima strofa Un artificio che D'Annunzio utilizza per collegare ancor più saldamente i vari elementi dell'opera E piove sui nostri volti silvani Piove sulle nostre mani nude Piove sui nostri vestiti leggeri Sui freschi pensieri che sgorgano dall'anima trasfigurata Sull'illusione dell'amore che ieri mi illuse Che oggi ti illude, Guarmione Bene, con questo penso di poter ritenere conclusa la mia introduzione alla pioggia nel pineto Lo so, avrei potuto soffermarmi maggiormente sulle assonanze o sulle alliterazioni o sulle rime interni presenti nell'opera Come avrei potuto soffermarmi su una miriade di altre cose in realtà Però, come ho detto sin dall'inizio, non pretendevo di fare un video che potesse esaurire completamente quest'opera E non voglio nemmeno togliervi tutta la sorpresa di analizzare per i fatti vostri anche quest'opera Per poterne scoprire anche qualcosa di più personale e di più vostro E comunque penso che tre video possano ritenersi sufficienti per avere almeno un'infarinatura generale di D'Annunzio e di quest'opera Non mi rimane che salutarvi e invitarvi, nel caso abbiate domande, richieste e soprattutto consigli A lasciare un commento qui sotto in descrizione Per ora è tutto, grazie per la visione e alla prossima!